E' stato un imprenditore, un mecenato, un uomo di cultura illuminato e lungimirante, il professore Lucio Marco Tullio, il padre del Made in Italy, fondatore della Roman Style, presidente della Fondazione Formoda, sindaco di Penne dal 1993 al 2001, ha ricoperto cariche pubbliche, sostenuto la cultura. A 90 anni dalla sua nascita, Confindustria Chieti Pescara, ha celebrato lo straordinario contributo dell'economista e manager scomparso nel 2020 con un evento commemorativo e una cartolina con speciale annullo filatelico di poste italiane, affrancata e dedicata al professore, che è stata donata a tutti coloro che non sono presenti nella sala consigliare del Palazzo Civico di Penne. Lo ricorda così il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara Luigi Di Giosaffatte, autore del volume Lucio Marco Tullio, Mille mani, una sola anima. Pescara, ma soprattutto cosa ha rappresentato per Confindustria e per l'Abruzzo intero? Sì, certo, per i pennesi era semplicemente il professore, tutti lo chiamavano così, in realtà proprio il titolo di questo libro era proprio Mille mani, una sola anima rispecchia, era la definizione che lui dava dell'abito Brioni. In realtà rispecchia, come sostengo nel libro, la sua vita, la visione del professor Marco Tullio, cioè di avere delle sfaccettature, delle competenze trasversali che toccavano l'imprenditoria, la managerialità, la docenza, un economista importante, ma se vogliamo anche l'amministratore pubblico è stato per due mandati sindaco di Penne perché sentiva il dovere di restituire al territorio in termini di politica e di economia, un grande esperto di storia e di archeologia e quindi in qualche modo le mille, diciamo, mani di questo suo essere. In realtà non tradiva mai l'unica anima che lui aveva, è proprio quella di ispirazione cristiano sociale. La sua vita è stata ispirata proprio all'anima del cristiano anche quando decide cose importanti per la collettività e questo è un dato di fatto.